Io la settimana prossima voglio portare in Consiglio dei Ministri il decreto famiglia. Questo decreto per aiutare le famiglie che fanno figli è un decreto che ha già le coperture, un miliardo di euro, che abbiamo risparmiato e recuperato dal reddito di cittadinanza perché abbiamo respinto il 25% di richieste che non erano idonee perché non avevano i requisiti. Quindi tre quarti di richieste sono state accettate e un quarto non è stato accettato. Il decreto è pronto e voglio dirlo chiaramente, noi possiamo dividerci su tutto in questo governo, possiamo pensarla diversamente su tutto, ma non sui figli e sulle famiglie, non sugli aiuti alle famiglie che fanno figli, non sulla crescita demografica che a volte è molto più importante della crescita economica. e allora sulla famiglia e sul decreto che stiamo facendo si gioca il destino del governo. La tenuta del governo dipende per noi da un tema così importante perché se anche su questo si vuole rompere e allora si stanno cercando pretesti per come la vedo io. Detto questo, noi siamo pronti a portare avanti tutti i progetti, i programmi e i progetti di legge che vogliono portare avanti coloro che fanno parte del governo insieme a noi. Però vorremmo vedere qualcosa di scritto, per esempio sulla flat tax, io non ho ancora nulla di scritto dopo 11 mesi. E' inutile dire che il Movimento 5 Stelle dice no alla flat tax, noi la vogliamo approvare per il ceto medio, ma la vogliamo approvare, non per i ricchi, per il ceto medio. Ma non c'è ancora nulla di scritto, non c'è una copertura. Come si può accusare di questo il Movimento se non esiste l'oggetto della discussione, su cui io sono totalmente d'accordo? Io questo lo dico perché sono stati quasi 12 mesi, perché il primo giugno noi festeggiamo un anno dal giuramento di questo governo, sono stati 12 mesi di lavoro intenso, abbiamo fatto grandi cose insieme e ne possiamo fare tante altre insieme, ma se ogni occasione deve essere un pretesto per creare tensione, allora io sono preoccupato, per me il governo deve andare avanti, ma che senso ha un governo del cambiamento che non fa velocemente un decreto per destinare un miliardo di Euro di risorse che ti avanzano alle famiglie italiane che fanno figli e oggi sono le meno sostenute d'Europa, quando un figlio nasce in Italia ha meno aiuti economici di tutti gli altri bambini che nascono negli altri paesi europei.